Buonasera a tutti, sono Favotto Daniele, lavoro sui mercati da 2000 e da 2011, prima come cliente ed ora come formatore, collaboro col team di Alfa4All. Collaboro in qualità di coach in opzioni e risk navigator. Proprio delle risk navigator voglio parlare questa sera, ricollegandomi ad un articolo che ho scritto sul blog lo scorso settembre. In questo articolo avevo fatto un'analisi tecnica del titolo Baidu e avevo costruito una bare call, costruita appunto utilizzando il risk navigator. Eccola qua. Questa immagine ci mostra l'andamento della strategia a scadenza con la linea tratteggiata azzurra, al momento della sua costruzione con la linea continua azzurra, dopodiché con la linea magenta ad una data prefissata e scelta dall'utente. In questo caso io ho scelto la data del 16 ottobre. Questa sera ho un'altra strategia che vi porto sempre su Baidu. Eccola qua. Questa volta però è un calendar spread di put. Abbiamo sempre la scadenza con la linea tratteggiata azzurra e abbiamo, e ho scelto in questo caso, la data del, eccola qua sul menu, del 3 giugno per monitorare l'andamento della strategia appunto due giorni prima della sua scadenza per avere un'idea della sua evoluzione. Qua in alto abbiamo tutti i dati della strategia complessiva, quindi il teta totale, il vega, il gamma e il delta. Questo ci dà sempre un'idea di come si sta evolvendo la strategia. Questo è possibile perché il Risk Navigator è integrato col flusso dati di mercato della TVS e questo ci evita di acquistare abbonamenti di servizio di fornitura dati e software agentivi di analisi che aumenterebbero comunque i costi che dobbiamo affrontare. Il Risk Navigator comunque ci dà molto di più perché ci consente un'analisi completa del nostro portafoglio tramite questo menu con cui possiamo monitorare il rischio per posizione, il portafoglio totale, il rischio per sottostante, per settore, eccetera e molto altro. È una piattaforma molto complessa ma comunque con un layout molto semplice e intuitivo ci consente di capire e monitorare l'intero portafoglio. Comunque se volete approfondire la conoscenza e l'utilizzo del Risk Navigator si può prenotare una sessione personale cliccando il link sotto in descrizione. Io con questo vi saluto è linea alla regia.